Sabato 30 settembre alle ore 20.45 presso la ex chiesa del Pozzo a San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona verranno eseguite le quattro stagioni di Antonio Vivaldi in versione pianoforte a quattro mani e violino solista. Le tre putte o figlie dell'orchestra creata da Vivaldi e protagoniste di successo della vita musicale veneziana della loro epoca eseguiranno i concerti in costumi del Seicento, con loro Antonio Vivaldi sempre in costume d'epoca che arricchirà le esecuzioni delle musiciste, declamando i sonetti composti da lui medesimo, raccontando aneddoti, caratteristiche e dettagli legati alla vita e alla produzione. Protagonisti la violinista Serena Chien, la pianista Maria Beatrice Boscaro e la pianista e soprano Maria Rita Schenato che eseguirà anche alcune aree sacre del compositore tratte da capolavori come Ottone in Villa, La Griselda, Il Tamerlano e altre. Vivaldi sarà impersonato dal narratore professor Massimo Celegato. Il concerto, con ingresso libero, è voluto e sostenuto da pastificio Rana nella persona del Cavaliere Giovanni Rana come dono alla sua città e in collaborazione con l'amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto. Il concerto, ripreso in streaming con l'esecuzione anticipata da foto della città, andrà a tutti i sindaci italiani e delle grandi città europee per la diffusione nel mondo delle città venete. Le città venete e relativi concerti del progetto Musiche ed Intorni, omaggio al Veneto, sono visibili in Maria Rita e Maria Beatrice, musiciste, canale YouTube.